Il studio di promozione sociale figlio d'Ariana è nato 15 anni fa qui a Santa Lucia con lo scopo di organizzare dei momenti di riflessione, comunque momenti dalle modalità più disparate, tipo quello che abbiamo qui in questa giornata, per aiutare le persone a riflettere, a fermarsi e a riflettere su alcuni aspetti fondamentali dell'esistenza, della convivenza in particolar modo. E gli spuntini non mancano mai da un punto di vista sociale. Allora abbiamo pensato che si poteva organizzare qualcosa insieme, sotto la voce proprio di Impastiamoci, che desse risalto maggiore ai 150 anni di questa unità d'Italia, che è il pane, per mettere in risalto appunto l'unità fra le persone, nel nostro caso i 150 anni delle unità d'Italia. Una ventina di associazioni che stanno aderendo tuttora perché anche probabilmente si sente anche l'esigenza di fare delle cose insieme, perché più siamo insieme più riusciamo a fare cose importanti e anche di livello che possano raggiungere tutte le esigenze delle persone perché ciò che riguarda le loro riflessioni.